Buonasera. No, ma non è buonasera. Parliamo di Damiano Manavella, questo ragazzo che ci ha accompagnato, che noi abbiamo imparato ad amare per i suoi ruoli tragici e comici, questa nuova maschera, no? Sì, Damiano è un ragazzo che io trovo... Innanzitutto lei lo trova? Cioè riesce a trovarlo e forse è occultato? Dipende. Dipende, sì. Dipende dalle volte, dipende se ho gli occhiali oppure no, perché quello incide molto sul... Poi Damiano è uno che è capace a nascondere. È capace, è molto capace, ragazzo. È un peccato, un vero peccato, una grande perdita per tutta l'Italia. Poverino. Di cosa è morto? È un peccato, un vero peccato, una grande perdita per tutta l'Italia. Questo gatto che purtroppo ci ha lasciati. Ma è... come è morto? È... Problema dello sciacquone, problema della società contemporanea, come non affrontarlo? Ma ne parleremo un'altra volta perché ci abbiamo tempo. Arrivederci. Perché cazzo è questa roba? Siamo in onda. Ah, lo devo fare io? Siamo in onda. Prego, andate. Vedete la precisione dovuta all'intervento di struttura? Vedete la precisione dov... Scusate. No, è perfetta. Ripetila, ripetila. Vedete la precisione... Scusatemi. Vai, vai, vai. Azione. Vedete la precisione dovuta all'intervento... Scusate. Certo, onorevole, io condivido tutto quello che lei dice. Scusi. Ecco, lei è caduto, ma... Ho perso un'orecchina. Questa è d'oro? Ovviamente. Io penso che... Io penso che in uno stato come il nostro, l'economia sommersa sia l'unico mercato funzionante. Se si comincia a mettere i massoni fra le ruote, agli... Azzò, a fa culo. Oh, ma che fai? Fum? Cazzo, scusate. Fum, ma davvero. Andata a maltempo. Crollano le strade, crollano le case, crollano i ponti, crolla tutto. I nuovi colp... I nuovi colpiti? No, i meno colpiti. Capisci? Ma partiamo una base d'asta, no? Sì. Ma io dirò, franco, 75 milioni di euro. 75 milioni di euro, c'è chi offre di più, c'è chi offre e di meno c'è chi offre la figlia. Attenzione, perché questo è importante. Presenteremo un nuovo argomento, un argomento importantissimo che... Dove sta? Un quarto d'ora, proprio, no sfondo tutto. Quella energia che... Non me posso muovere troppo, se no, giustamente, come inizio, poi me meno. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. Chi è dentro, chi è fuori è fuori.